Veramente è un peccato che non abbiamo potuto essere nelle posizioni più alti del settimo posto, però è quello che è successo. Adesso dobbiamo pensare per l'anno prossimo per migliorare, per non ripetere le errori che abbiamo fatto questo anno e credere che possiamo fare di più perché questa squadra è capabile di fare di più che abbiamo fatto questo anno. Con le tifose sarebbe totalmente differente. È possibile che potevo fare più di gol con i tifosi, però anche purtroppo è un peccato che quando segni non può festeggiare da un modo normale perché non c'è nessuno a festeggiare a parte dei nostri compagni. Però speriamo che l'anno prossimo i tifosi ritorneranno nel stadio e così possono aiutare di più e possiamo vincere le partite insieme. Secondo me dopo il primo tempo del campionato i avversari già avevano capito come giochiamo, in che modo. Era un po' difficile, però il mister alla fine ha capito e ha cambiato la sistema che giochiamo e abbiamo iniziato a giocare a quattro, quello che era più difficile per le avversari a capire. Per questo le ultime partite abbiamo giocato di più, meglio e abbiamo vinto le squadre più forti. Purtroppo era già tardi, posso dire, però è importante che abbiamo creduto che possiamo vincere le squadre, che possiamo giocare e che possiamo arrivare a un livello più alto. Secondo me il problema era la prima partita, abbiamo dimenticato che si gioca due partite, non dovevamo andare davanti anche quando perdevamo 3-2, 4-2, perché con sapevolenza dovevamo capire che se gioca due partite all'Olimpico può succedere tutto. La Roma ha dimostrato, ha mostrato già una volta che si può vincere contro la Barcelona perdendo 4-1 a no camp, vincere 3-0 qui all'Olimpico. Dovevamo capire questo e pensare di non andare avanti e dimenticare a difendere. Per questo abbiamo sbagliato, però dopo quando siamo ritornati a giocare qui all'Olimpico abbiamo visto che era possibile vincere questa squadra e andare avanti anche in finale. Però purtroppo siamo una squadra giovane che dobbiamo apprendere. E' l'unica cosa che posso dire.